Ciao ragazzi, benvenuti nel venticinquesimo episodio della serie su C++. In questo video vediamo un argomento che ho già citato nello scorso episodio, in particolare quando abbiamo visto i tre tipi di identificatore di accesso, quando abbiamo parlato dell'identificatore protected, ossia l'ereditarietà. L'ereditarietà in C++ è quella caratteristica che ci permette di ereditare attributi e metodi da una classe all'altra. Esistono due gruppi principali nell'ereditarietà. Il primo è la classe derivata, ossia la classe figlio, quella classe che effettivamente è eredita da un'altra classe. Mentre il secondo è la classe base, ossia genitore, che invece è la classe che viene ereditata dalla classe figlio. La sintesi per ereditare una classe prevede due punti, ma vediamo un esempio come al solito per capirci meglio. Quindi andiamo a creare una classe persona, quindi class persona, apriamo le parentesi graffe e mettiamo subito il punto e virgola per non dimenticarci alla fine. E questa classe avrà poi la funzione di essere la classe base, ossia quella genitore, che possiede tre attributi pubblici. Quindi scriviamo public, due punti, e andiamo a dichiarare i nostri tre attributi. Il primo è uno string nome, che vado a mettere uguale a Mario. A capo string, cognome, che invece vado a mettere uguale a Rossi, punti e virgola. Ed infine int, età, che vado a mettere ad esempio a 35, punti e virgola. Bene, abbiamo creato la nostra classe persona, che è la classe genitore. Sotto invece andiamo a creare una seconda classe. In questo caso sarà la classe figlio, che poi eredita solo gli attributi, in questo caso siccome abbiamo creato solo degli attributi, quindi non abbiamo dei metodi. Ma ovviamente se ci fossero, erediterebbe anche quelli. Quindi questa classe la vado a chiamare studente, quindi class studente. E per indicare che eredita da un'altra classe, usiamo, come vi ho detto, i due punti. Quindi scriviamo due punti. E di fianco public, e il nome della classe da cui ereditiamo. In questo caso la classe è persona. Bene, abbiamo creato la nostra classe studente. Mettiamo il punto e virgola dopo le parentesi graffe. E all'interno di questa classe creiamo due nuovi attributi pubblici. Quindi public, due punti. Il primo è un int matricola, che vado a impostare uguale a uno, punti e virgola. E poi una string classe. Siccome è uno studente andiamo ad indicare anche in che classe è. E vado a mettere ad esempio uguale a seconda a, punti e virgola. Bene, ora andiamo nel main e creiamo un oggetto studente. Quindi nel main scriviamo studente, che è il nome della classe figlio. E l'oggetto lo vado a chiamare studente, punti e virgola. Ora mandiamo a schermo tutti i suoi attributi. Quindi cout, nome, due punti. E vado a scrivere studente, punto nome. Poi concateniamo un'altra stringa in cui mandiamo in output il cognome. Studente, punto cognome. Comunque questa sintassi l'abbiamo già vista negli scorsi video. Poi concateniamo un'altra stringa in cui vado a mandare a schermo l'età. Quindi età, due punti. Mandiamo a schermo studente, punto età. Poi matricola, due punti. Studente, punto, matricola. Ed infine classe, due punti. E mandiamo a schermo studente, punto, classe. E per concludere un endline, punti e virgola. Ok, questo è un shout molto lungo, quindi non lo vediamo fino alla fine. Ma è solo per mostrarvi il funzionamento dell'ereditarità. Quindi ora salviamo il codice. Compiliamolo, quindi gppu-o, il nome del file eseguibile, il nome del codice sorgente. Ci dà un errore, questo perché alla fine di questo shout invece di mettere il punto e virgola ho messo due punti. Quindi salviamo di nuovo, compiliamo. Non ci dà più errori, quindi possiamo avviare il programma. E come vedete ci vengono stampati a schermo tutti gli attributi e il loro valore. Quindi abbiamo nome, Mario, cognome Rossi, età 35, matricola 1, classe seconda A. Ma perché riusciamo a scrivere in output degli attributi, come ad esempio il nome, il cognome e l'età, del nostro studente, anche se nella classe studente non l'abbiamo inseriti? Beh, questo è possibile proprio perché l'abbiamo ereditati, ossia l'abbiamo copiati, nella classe figlio studente. Quindi noi con questa sintassi, due punti public persona, abbiamo detto al nostro programma che tutti questi attributi pubblici della classe persona devono essere copiati all'interno della classe studente. Vediamo un'altra caratteristica dell'ereditarietà che è la possibilità di ereditare su più livelli. Quindi una classe può ereditare da una classe che ha già ereditato i class members di un'altra classe e così via. Ma vediamo un esempio. Quindi io sono andato a pulire tutto il mio codice e andiamo a creare una nuova classe. Questa classe la vado a chiamare la mia classe. Quindi la solita sintassi, andiamo a scrivere public. Creiamo un metodo pubblico, quindi void, funziona. E qua scrivo cout, siamo nella classe genitore. Poi metto un endline e punte virgola. Bene, fatto ciò andiamo a creare una classe derivata, quindi una classe figlio, che vado a chiamare classe, classe figlio. Apriamo le parentesi graph, punte virgola. Ovviamente però dobbiamo dire da quale classe eredita, quindi due punti, public, la mia classe. In questo modo. In questo caso vado a creare un metodo pubblico che vado a chiamare funzione figlio. E questa volta scrivo cout, classe figlio, endline, punti virgola. Ed infine vado a creare una terza classe che vado a chiamare nipote. Quindi classe nipote. Questa volta questa classe non eredita dalla classe principale che abbiamo chiamato la mia classe, bensì erediterà dalla classe classe figlio. Quindi scriviamo due punti, public, classe figlio. Poi questa classe la lasciamo vuota e nel main andiamo a creare un oggetto della classe nipote. Quindi scriviamo classe nipote e vado a chiamare oggetto. E poi da quest'oggetto andiamo a richiamare sia la funzione normale, quindi oggetto.funzione, che è la funzione della classe genitore. E poi a capo richiamiamo la funzione della classe figlio. Quindi oggetto.funzione figlio. Salviamo il codice, compiliamolo. Non abbiamo errori, quindi andiamo ad avviare il programma. E come vedete ci viene stampato sia siamo nella classe genitore e a capo anche classe figlio. Quindi cos'è successo? È successo che abbiamo creato una classe figlio che eredita dalla mia classe e poi una classe nipote che eredita sia dalla classe figlio che dalla classe principale che abbiamo chiamato la mia classe. È inoltre possibile per una classe ereditare da due classi diverse. Vediamo come. Quindi io vado a lasciare questa classe principale, la mia classe. Poi vado a creare un'altra classe che vado a chiamare la mia altra classe. Se lo so non ho molta fantasia ma è solo per mostrarvi il funzionamento. In quest'altra classe vado a creare un metodo pubblico, quindi void, altra funzione, la vado a chiamare. E vado a scrivere siamo nella classe 2, poi endline e punte virgola. Ed infine andiamo a creare la classe derivata, quindi class, classe derivata, la vado a chiamare, che eredita sia dalla classe, quindi public, la mia classe, poi virgola e gli diciamo che eredita anche la classe, la mia altra classe. Quindi la classe derivata gli stiamo dicendo con i due punti che eredita sia dalla mia classe, ossia la classe principale, e sia dalla classe che abbiamo chiamato la mia altra classe. Questa classe derivata la lasciamo vuota, poi andiamo nel main e creiamo un oggetto della classe derivata, quindi classe derivata oggetto, e poi scriviamo oggetto punto funzione, quindi stiamo richiamando la funzione della classe principale, questa qua, poi a capo oggetto punto altra funzione, che è la funzione della seconda classe. Salviamo il codice, compiliamolo, quando abbiamo il programma, ecco qua che ci viene scritto, siamo nella classe genitora, che è l'output che deriva da questa funzione, mentre il secondo output deriva da questa altra funzione. Quindi noi con una classe derivata abbiamo ereditato sia il metodo della classe principale, che il metodo della classe secondaria. Bene, come ultima cosa in questo video vediamo cos'è l'identificatore di accesso Protected, che se vi ricordate bene vi ho già citato qualche altra volta. In particolare l'identificatore di accesso Protected è l'ultimo dei tre presenti su C++. Esso è simile all'identificatore privato, ossia quello private, ma a differenza di quest'ultimo, si può accedere ad esso, quindi agli attributi e ai metodi presenti all'interno, anche dalle classi ereditarie. Vediamo come si può creare qualcosa del genere. Quindi io vado a creare una classe, la vado a chiamare dipendente, quindi apriamo la logica con le parentesi graffe e mettiamo il punto e virgola, e vado a creare quindi l'identificatore Protected, in questo modo, punto e virgola, e all'interno di questo identificatore andiamo a creare una variabile int salario, quindi diciamo lo stipendio, quindi più precisamente la chiamiamo stipendio. Bene, poi creiamo un'altra classe, la classe derivata. Questa classe la vado a chiamare sviluppatore, che ovviamente è eredita, quindi due punti, public, è eredita dalla classe dipendente, quindi scriviamo public dipendente, apriamo le parentesi graffe e mettiamo il punto e virgola, e all'interno di questa classe derivata creiamo l'identificatore public, in modo che questi attributi e metodi siano accessibili dal main, in particolare dichiariamo un int bonus, quindi che è un bonus sullo stipendio, e poi una funzione void cambia stipendio, quindi questa funzione si occuperà di cambiare il valore del nostro stipendio. In questa funzione richiediamo anche un parametro, che vado a chiamare int x, e nella logica vado semplicemente a scrivere che stipendio è uguale ad x. Quindi noi stiamo modificando una variabile che non è all'interno di questa classe, bensì viene ereditata tramite l'identificatore protected dalla classe dipendente. Fatto ciò creiamo anche un metodo set per avere accesso al valore dello stipendio, quindi scriviamo int get stipendio, e semplicemente in questo metodo scriviamo return stipendio. Perché mettiamo questo get? Perché appunto noi dal main non possiamo accedere alla variabile stipendio, siccome è protected, e quindi creiamo nella classe derivata, all'interno del public, un metodo per leggere questo valore. Poi andiamo nel main, creiamo una classe sviluppatora, quindi sviluppatora, che vado a chiamare oggetto, e poi scrivo oggetto punto cambia stipendio, e diciamo che lo stipendio di questo sviluppatore per esempio è 50.000, poi a capo oggetto punto bonus, quindi gli andiamo a modificare il bonus, e come vedete noi possiamo accedere a questa variabile siccome è pubblica, e impostiamo questa variabile ad esempio a 15.000. Poi a capo mandiamo a schermo il valore dello stipendio, quindi scrivendo cout stipendio, e mandiamo a schermo oggetto punto get stipendio, poi un endline, e mandiamo anche a schermo a capo il valore del bonus, quindi bonus due punti, oggetto punto bonus, anche in questo caso endline e punte virgola. Ora salviamo il codice, compiliamolo, quando avviamo il programma, ecco qua che ci viene mandato a schermo stipendio 50.000, che è il valore che gli abbiamo impostato tramite la funzione cambia stipendio, e poi il bonus 15.000. Quindi, a cosa ci serve il protected? Ci serve in quei casi in cui noi vogliamo che questa variabile sia privata, quindi non accessibile dal main, ma che comunque una classe derivata gli possa accedere. Infatti noi dalla classe derivata sviluppatore, siamo stati in grado di modificare il valore del nostro stipendio. Questo grazie a una funzione, che noi abbiamo chiamato cambia stipendio, che va ad impostare lo stipendio uguale ad x. Bene, come al solito, per qualsiasi dubbi o domanda lasciate un commento qua sotto, mettete like al video per supportarlo con l'algoritmo di YouTube, e noi ci vediamo nel prossimo video.